buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici dal sottoscritto nicole de lucia con la deluxe television allora in questo nuovo video di oggi parliamo di serie c ieri si sono giocate ben tre partite allora nel girone a gozzano pianese il gozzano ha vinto 1 a 0 gozzano diciottesimo al momento in zona play out con 22 punti finalmente ritrova la vittoria dopo 4k o di file invece la il pianese e sedicesimo anche lei zona play out a 24 punti pareggio 4 sconfitta 4 pareggio una sconfitta nelle ultime 5 il gozzano giocherà il 23 febbraio in casa della carrarese che quarta 39 punti invece la pianese giocherà in casa della juventus under 23 il 23 febbraio juventus sander 23 che ha più seda la zona play out quattordicesimo posto a 30 punti poi passiamo a rimini modena girone b rimini vince 2 a 0 rimini penultimo zona play out a più 2 dalla retrocessione diretta diciannovesimo a 20 punti finalmente ritrova la vittoria dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 partite il modena è ottava in zona play out a 37 punti e questa la terza sconfitta nelle ultime 5 partite il rimini giocherà il 23 febbraio in casa della virtus verona che undicesimo a 30 punti alla ricerca di un posto al sole nel play out invece il modena giocherà in casa contro il sud di rollo il 23 febbraio sud di rollo quarto in classifica zona play out a quota 45 punti poi abbiamo il girone c teramo monopoli 0 a 3 monopoli terzo in classe tra il secondo e il terzo posto col bari a quota 51 punti piena zona play out il teramo e settima quota 37 punti anche lei in zona play out 2 sconfitte di fila 3 nelle ultime 5 partite il monopoli il 23 febbraio giocherà in casa contro la sicula leonso che occupa la terza ultima posizione zona play out 18esima quota 16 punti invece il teramo giocherà in casa del riedi il 23 febbraio riedi che ultimo vendesima posizione retrocessione diretta a quota 12 punti 3 sconfitte nelle ultime 5 partite poi diamo uno sguardo per esempio anche alla serie a femminile dove al momento la situazione in classifica la juventus indessa a quota 38 punti champions league diretta seconda la fiorentina quota 35 punti terzo il milano a 35 quarta la roma 31 quindi sassuola 23 sesta la florenza 21 settima l'inter a 18 ottava l'empoli a 18 nono verona 12 decimo baria più uno dalla zona retrocessione diretti zero e via quota 10 punti tavagnacco penultimo retrocessione diretta quota 9 punti arabica dodicesima ultima quota 12 cioè dodicesima quota un punto andiamo con i risultati della 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 che ci sono stati ieri in serie a femminile un attimo che la regia mi deve servire la grafica si ieri bari florenza 1 a 4 davagnacco milan 04 fiorentina sassuolo 2 a 1 robica emboli 03 roma verona 6 a 0 poi facciamo tutto un contenitore deciso ieri si sono giocate anche le partite di primavera a 2 serie a 2 di primavera cosenza frosinone 1 a 5 entella cittadella 2 a 2 lecce crodone 0 a 1 livorno benevento 2 a 2 pisa juve sabbia 3 a 0 trapani salernitano 1 a 1 ascoli perugia 4 a 0 brescia venezia 0 2 parma milan 03 pordenone cremonese 2 a 1 spaludinese 3 a 2 verona spezia 3 a 0 andiamo infine con le classifiche di primavera 2 gruppo a milan prima 47 punti zona playoff seconda la spalla 37 terzo il verona 32 quarto l'udinese a 31 poi pordenone 25 brescia 19 spezia 18 entella 18 parma 18 venese 17 cittadella 15 cremonese 12 nel gruppo a nel gruppo b ascoli prima 43 punti playoff trapani 32 livorno 27 lecce 25 frosinone 25 crodone 24 cosenza 22 perugia 20 salernitana 20 benevento 18 juve sabbia 14 e pisa 13 grazie a tutti scusate se sono stato un po lunghino ma ha voluto riunire tutti in un unico video grazie a tutti ciao ciao